Italian Crypto Cup Edition 2024 Di che cosa stiamo parlando? È un contest con cryptoasset rivolto a cryptoinfluencer italiani con almeno 5000 follower suddivisi tra YouTube, Instagram e Twitter. La soglia di partecipazione ha un fixed amount, quindi un importo uguale per tutti rispettivamente a scelta 10.000 USDC, 10.000 USDT o 10.000 USP. Si deve interagire esclusivamente con un address pubblico sulla blockchain preferita a scelta tra come potete vedere Itinus, Solana, Cardano, Avalanche, Cosmos, Nier, eccetera, eccetera. Ognuno sceglie la blockchain sulla quale vuole operare, apre un address vergine, nuovo, deposita a scelta 10.000 USDC, USDT, USP e che cosa poi dovrà fare? Si tratta di un contest in asset allocation. Attenzione, non è una competizione di trading. Molti hanno sollevato obiezioni sul fatto che si trattasse di una trading competition. Assolutamente niente di tutto questo, proprio per il fatto poi di utilizzare esclusivamente DEX. È un contest in allocation di cryptoasset basato su scelte discrezionali. Le operazioni pertanto possibili sono buy and sell and swap, con tutto l'universo scibile all'interno della chain sulla quale si è deciso di operare. Sono consentiti sia gli airdrops che le operazioni di liquid staking. È ipotizzata una durata di 100 giorni solari, minimo 10 operazioni affinché possa essere valutata la performance dell'influencer e minimo 20 partecipanti. Un possibile inception date è tra un mese, ossia il 15 marzo. Qual è la finalità di questo contest? Innanzitutto, gli address dei partecipanti influencer, essendo pubblici, possono essere studiati, analizzati e confrontati da tutte le crypto community italiane al fine di creare confronto e formazione durante l'intera competizione. Sono previste due categorie di riconoscimenti, tre premi e tre awards. Primo premio, secondo e terzo, ovviamente chi si è distinto in termini di complessiva rivalutazione del portafoglio o dell'asset allocation e poi miglior strategia, miglior allocazione e anche miglior resilienza dell'address in questo caso. Qual è l'obiettivo del contest? Oltre che mettere in gara influencer su tematiche, su scelte riguardanti gli ecosistemi e le crypto asset che ritengono possano essere interessanti, performanti e utili. Grazie al confronto tra più interlocutori in gara, sarà possibile conoscere pertanto ecosistemi su cui non si aveva profonda conoscenza o confidenza. Sessioni potranno essere successivamente o in parallelo organizzate, sessioni live di confronto tra i partecipanti, interviste con la stampa di settore nonché anche opportunità di inserimento occupazionale all'interno dell'industria cripto italiana. Pensatelo come se fosse una sorta di grande fratello per il mondo cripto in cui appunto tutti coloro i quali partecipano e danno un'operatività che è on-chain, pertanto chiunque può rendersi conto di che cosa fa, perché lo ha fatto, come si sta esponendo, quando va a swappare, su che cosa e così via discorrendo. E' per questo motivo che non può essere strutturata una soluzione del genere ricorrendo ai checks, perché i checks per ovvia definizione mantengono la riservatezza delle operazioni, mentre in questo caso si ha appunto la necessità di avere il grande fratello, ossia che tutti possono rendersi conto di che cosa sta facendo uno specifico influencer. E' stata proposta alcuni giorni fa l'idea dell'Italian Crypto Cup, alcuni hanno storto il naso, ma la maggior parte invece ha dimostrato interesse per il suo potenziale. Ovviamente l'esperienza del confronto per 100 giorni con più colleghi, interlocutori, professionisti, non professionisti del settore e poi anche il potenziale che può scatturire da questo tipo di contest. Chi volesse partecipare può iscrivere direttamente agli indirizzi, ai canali che vedete qui in sovrimpressione, anche per le aziende interessate ad un eventuale sponsorship, i premi in questione che abbiamo menzionato prima ovviamente sono appunto messi a disposizione dalle aziende che sosterranno l'iniziativa sotto forma della propaganda e poi anche media che daranno visibilità. Confidiamo da qui a una settimana magari di trasmettere qualche notizia in più per quanto riguarda il calendario, la roadmap e tutte le altre caratteristiche distintive del contest.